Drive Club è una delle esclusive di PlayStation 4 più attese. Sviluppato da Evolution Studios, già autori della serie Motorstorm su PlayStation 3, è un racing game di stampo arcade che fa dello spettacolo e della componente social le sue caratteristiche principali. 55 tracciati diversi, sparpagliati in 5 diverse location, saranno i teatri per sfide mozzafiato fra supercar su licenza, fra cui Ferrari, Lamborghini, Mercedes. La struttura online consente di creare un proprio club, sfidando gli altri in corse specifiche e di poter sempre monitorare i progressi degli amici. Il sistema di controllo è un sapiente mix di esperienze diverse. Il feeling di guida immediato e allo stesso tempo approfondito al meglio è fondamentale per competere ad alti livelli. Una giocabilità dunque stratificata mette al centro di tutto il divertimento. Graficamente Drive Club sfrutta l'hardware di PlayStation 4 a colpi di frusta come mai prima d'ora. Tra la fantastica modellazione delle vetture, sorrette da un numero esorbitante di poligoni, la bellezza degli scenari e le condizioni meteodinamiche, il risultato è probabilmente uno dei racing game più spettacolari di sempre. Drive Club è disponibile in esclusiva su PlayStation 4.